A dieci mesi dal termine del mandato il sindaco Roberto Falcone si dimette. Dimissioni dolorose, dimissioni prese per quale motivo sindaco? Ma come ha detto Di Maio in un suo post pubblicato pochi minuti fa il nostro lavoro, quello degli amministratori del Movimento 5 Stelle è quello di lavorare per la cittadinanza. Nel momento in cui la nostra attività inizia a poter generare dei problemi nei confronti del territorio ovviamente stacchiamo la spina perché questo non deve succedere assolutamente. Che cosa l'ha portato a staccare questa spina? Ci sono stati una serie di episodi, in realtà la nostra problematica è stata quella di costruire una lista per arrivare a governare Veneria in maniera molto eterogenea, quindi abbiamo delle relazioni all'interno della lista stessa che non sempre sono efficaci e produttive, sono state in questi anni. Abbiamo visto di tanti consigli comunali per cui ognuno potrà rilea da quella che è stata la storia su Veneria Reale da parte di questa amministrazione. In particolare nell'ultimo periodo mi sono accorto che ogni qualvolta stavo per prendere delle decisioni di competenza del sindaco, quindi strettamente legate al mio ruolo sentivo qualcosa che non andava, quasi una difficoltà nell'attuare queste scelte. Mi sono reso conto che questo era frutto di una sorta di violenza psicologica subita da parte mia, perpetrata da parte di alcuni componenti del Consiglio, della maggioranza in particolare. Aldo Urso ha lasciato questo Consiglio dimettendosi ieri sera, io lo ringrazio per l'appoggio, lui ha scelto di seguire questa strada perché non condivideva più le scelte fatte da altri consiglieri di maggioranza, per cui si stava arrivando a impormi o comunque a chiedermi di fare delle azioni che per me non erano corrette, quindi lui anche ha ritenuto non opportuno assecondare queste bellità. Ma il commissario prefettizio, il dottor Gatto, ha portato avanti in maniera egregia l'ordinaria amministrazione di Veneria Reale, quindi ha lasciato un comune in ordine sicuramente. Quello che ho trovato sulla città invece è frutto, ma come ho detto da primo giorno, delle amministrazioni passate, dei tanti anni di amministrazioni appunto che si sono alternate, sono scarse manutenzioni, problemi sugli edifici comunali, i problemi sulle scuole sono sotto gli occhi di tutti. All'ordine del giorno abbiamo avuto un sequestro, primo giorno in cui mi sono insediato, la finanza mi ha consegnato un ordine di sequestro di un piano dell'asilo Banzi, dopo poco è arrivata una relazione sulla sicurezza e staticità statica degli immobili che evidenziava dei seri problemi sulla 8 marzo ad esempio. Dopodiché abbiamo preso in mano il problema dell'amianto nei cimiteri, unico caso in Italia. Dopodiché abbiamo avuto problema sulla Romero che l'anno scorso sono stato costretto a chiudere per garantire la sicurezza dei ragazzi che la frequentavano, questo ha fatto in modo che noi dovessimo lavorare in maniera spedita e profonda con gli uffici affinché quest'anno con il nuovo anno scolastico si potesse riaprire. Ecco, ogni estate si presenta una criticità. Quest'anno è la volta della scuola Gallo-Prail dove l'inaugurazione di questa scuola, quindi una scuola recente del 2012, già la data di inaugurazione venne spostata perché pioveva all'interno dell'edificio con trafilature di acqua dal solaio. Questo per dire la qualità degli immobili che ci siamo trovati. Piani di manutenzione mancate, sul verde che è tanto additato dai cittadini perché sembra essere da un punto di vista estetico, di ordine della città, un problema molto sentito. Voglio ricordare semplicemente che in questi 4 anni abbiamo aggiunto alla società Gesini che si occupa del verde, abbiamo aggiunto ettari e ettari di superficie da gestire con un personale che va via via riducendosi a causa dell'età, a causa dei pensionamenti e dei professionisti. Questo genera sicuramente un impatto. Le risorse comunali sono sempre quelle. Da un lato le manutenzioni che richiedono degli investimenti profondi, dall'altra delle necessità di intervenire su aree di questo genere. Le due cose sono inconciliabili tra di loro. Un buon amministratore, e io penso di aver amministrato in coscienza e correttezza verso la città tutta, deve cercare di dosare quelle che sono le criticità e le risorse in modo da cercare di indirizzare per priorità e per urgenza quelle che sono appunto le tante tematiche. Qualcosa rimane indietro? Sì, è così. Qualcosa deve rimanere indietro. Gli asfalti sono un altro tema che è particolarmente sentito. Ci sono delle zone che sono in situazioni veramente pessime. È in corso una gara, dovrà partire a breve con la città metropolitana. Ricordo che uno dei motivi di criticità della maggioranza è stato quello di non essere riuscito a passare a maggio una variazione di bilancio che ci avrebbe permesso di accendere dei mutui entro fine anno per consentire appunto i tanti interventi. Asfalti, bilancio partecipativo, che è un altro tema molto sentito dai consiglieri che non sono venuti a votare questa variazione di bilancio, le manutenzioni sulle scuole, come dicevo prima, Galloprail e tanti altri. Rimpianti nessuno direi. Nel senso che questa è stata una grande esperienza e ringrazio i cittadini per avermi dato l'opportunità di approfittare di questa occasione per crescere anche personalmente. Ho sviluppato una relazione con le persone in maniera molto più approfondita di quanto avessi potuto fare negli anni passati e questa è un'esperienza che mi porterò dietro sicuramente per i prossimi anni. Il mio rapporto con la città è cambiato notevolmente da come era prima. Anni in cui ho vissuto lavorando fuori Torino, fuori Veneria, ho vissuto in maniera molto marginale la città pur avendo i figli piccoli, quindi ho frequentato le scuole ma poco più. Ho avuto l'occasione in questi quattro anni invece di stringere un legame affettivo profondo con la città. Rimpianti nessuno. Quello che dovevo fare sono convinto di averlo fatto. Quello che avrei potuto fare se non l'ho fatto è perché non ho avuto proprio le risorse economiche o le risorse fisiche per farlo. Quello che io potevo fare l'ho fatto, questo posso rispondere. Assisterò e seguirò con interesse le prossime amministrazioni per imparare. Evidentemente se qualcuno ritiene che si potesse fare diversamente sarò ben contento di seguire e di imparare come gli altri si muoveranno in futuro. Sì, questo è un altro dei problemi che si è verificato anche all'interno della maggioranza. Posso assicurare che all'inizio riunioni fiume fino alle 2, alle 3 di notte quasi tutti i giorni per almeno i primi 6 mesi hanno portato a parlare e a ragionare poi anche negli anni successivi fino a pochi giorni fa a parlare sempre solo di cose di cui la città non ha interesse. Quindi il problema di questa amministrazione, dei consiglieri di maggioranza, di alcuni consiglieri di maggioranza è stata quella di portare l'attenzione e distrarre quindi risorse personali, ore di lavoro, ore di sonno anche e di attività sulla città, a parlare di cose di cui la città proprio assolutamente non ha interesse. I problemi della città io so esattamente quali siano, so dove avremmo dovuto concentrarci di più. Le feste non sono feste perché ricordiamo che è stato un elemento di partecipazione, tema a noi molto caro come Movimento 5 Stelle, dove i cittadini hanno potuto in queste occasioni riappropriarsi anche dei beni della città. Abbiamo assistito in questi anni all'entrata della cittadinanza all'interno della reggia che era vista come il castello di Cenerentola separato dal resto di Veneria Reale da un meraviglioso cancello in metallo. Abbiamo avuto due sessioni delle cene di solidarietà nel mese di dicembre degli ultimi due anni, dove i cittadini hanno potuto sedersi a tavola con una cena da 7 euro, quindi stiamo parlando di vera beneficenza, non stiamo parlando di lucro, sedersi a tavola all'interno della galleria grande della sala di Diana e godere, riappropriarsi per una sera, vivere un sogno, persone che sono in difficoltà economica, così come abbiamo avuto l'opportunità nelle sere d'estate, già l'anno scorso, quest'anno di nuovo, di poter offrire delle poche ore di svago a chi è che è meno fortunato di noi e quindi non si potrà neanche permettere di fare una settimana di vacanza, quindi passa da un anno lavorativo all'altro in maniera continuativa. Queste sono le tanto additate feste, che in realtà feste non sono, ma sono semplicemente momenti di vivere la comunità insieme. Chi non è in grado di capirlo evidentemente ha dei grossi problemi. Ieri sera ho avvisato immediatamente Di Maio, una volta maturata, la decisione di rassegnare le dimissioni in modo da condividere con lui questa scelta. Il vicepremiere Di Maio, che ringrazio per il supporto che mi ha dato in questi anni, ha capito perfettamente, conoscendoci e stimandoci reciprocamente, ha capito immediatamente quali fossero le motivazioni e mi ha dato il suo pieno sostegno per qualsiasi necessità fosse emersa prossimamente. La mia parola è una, quindi le dimissioni del sindaco non sono irrevocabili, possono essere revocate nel corso dei venti giorni successivi alla protocollazione che è avvenuta oggi, 26 giugno. A differenza però di altri, la mia parola è una, ho detto che mi sarei dimesso e l'ho fatto. Evidentemente non dico lo stile, ma l'integrità morale e etica non da tutti. Il bilancio chiude grazie all'attenta gestione degli anni passati fatta dalla Giunta, lascia un bilancio che è con un debitamento inferiore a quanto l'abbiamo ereditato, nonostante tanti milioni di investimenti sulle manutenzioni. Ricordo che in questi anni siamo riusciti a catturare delle risorse per la prima volta nella storia di veneria con della partecipazione a delle gare europee che ci hanno visto vincitori. Oltre a questo abbiamo raccolto fondi da parte della Regione, finanziamenti per il Movimento Centro che era fermo da una quindicina d'anni, se non ricordo male. Abbiamo rivisitato i progetti, abbiamo raccolto fondi per la realizzazione di piste ciclabili, per cui una grossa parte del bilancio è arrivata grazie al fatto di aver prodotto dei progetti di qualità che hanno attirato investimenti da parte, finanziamenti da parte degli enti sovracomunali. Roberto Falcone al 15 di luglio chiuderà quindi questa esperienza da sindaco a Veneria Reale, dopodiché essendo estate mi dedicherò alla famiglia sicuramente, riprenderò i contatti con il lavoro che mi aspetta in IBM e dopodiché dopo l'estate vedremo, lascio aperte tutte le possibilità, non ho però ancora pensato a nulla. I ringraziamenti sono molteplici, i ringraziamenti vanno alla Giunta, gli assessori che mi hanno affiancato fino all'ultimo giorno, quindi sono stati vicini, hanno lavorato con professionalità e con dedizione per il bene della città tutti insieme. Un grazie va loro, un grazie va sicuramente ai cittadini che in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza e quindi come riconoscimento del lavoro e della sincerità del lavoro svolto. Un grazie particolare va anche ai dipendenti, dirigenti, funzionari, impiegati dell'ente del Comune di Veneria Reale che ciascuno con le proprie caratteristiche, qualcuno è riuscito a superare anche il proprio attaccamento a delle correnti politiche particolari, è riuscito a dare un grosso supporto all'amministrazione non per l'interesse dell'amministrazione, ripeto, ma per il bene della città. Chi è che all'interno del Comune ha operato in questo modo sicuramente ha riconoscimento da parte di tutti noi. Il sindaco Roberto Falcone si è dimesso e i consiglieri di minoranza sono rimasti basiti, non ve l'aspettavate? Sì, fondamentalmente così repentino non ce lo saremmo aspettati anche perché non si capisce la motivazione. È chiaro che l'abbandono continuo di molti consiglieri 5 Stelle ha destabilizzato quello che era la politica che perpetrava questo sindaco, andando contro tutto e tutti, tant'è che i risultati si vedono, si vedono con i cimiteri distrutti, le strade praticamente piene di buche, l'erba altissima, c'è una carenza assoluta per quanto riguarda le strutture comunali che sono praticamente abbandonate, dove si è cercato di raffazzonare qualche soffitto per poterlo aggiustare e quindi si è investito tantissimi, quasi 10 milioni di euro senza ottenere un risultato, un danno alla città che se lo porteranno per 20 anni. Adesso rimangono delle priorità come il parcheggio dell'ospedale, ricordo che la nuova struttura ospedaliera è terminata e non si può aprire proprio per la questione che manca questo benetto parcheggio dove abbiamo il nome della ditta ma che i lavori presumibilmente inizieranno nei mesi di ottobre e novembre e termineranno il prossimo anno. Un ritardo enorme ai danni del cittadino che onestamente non riusciamo a capire. Quindi questa demissione non è il frutto che è praticamente il danno di 4 anni di una mala gestio che ha praticamente indebitato e aumentato l'IRPEF a tutti i cittadini di Venaria. Sto valutando insieme ad altri amici di preparare delle liste civiche per lavorare per il territorio evitando di avere possibilmente colore politico di ogni tipo. Penso che da oggi si apre la campagna elettorale, la scelta va ai cittadini sperando che sia premata il buon governo di chi l'ha fatto e non chi l'ha detto a parole come è successo in questi ultimi 4 anni.